però è una pianta generosa e lo vale lo pagano anche bene siccome è un arancia bionda ed è l'ultimo arancio del 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 ciclo produttivo delle arance ed è pronta ad aprile e quindi diciamo che ha un po di mercato anche se da un punto di vista morfologico non è un granché no però è una pianta molto carica ben distribuita di una pezzatura anche discreta questo è il cosiddetto 108 chiamato che è praticamente il prodotto che va nelle retine il calibro com'è la testa